we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuderone e ragazzi nuovo fortbite si trova in posizione j3 da qualche parte della mappa vediamo ragazzi dove cavolo si trova potrebbe essere probabilmente dentro lo spot delle pallette che è proprio in posizione j3 avrebbe anche senso se fosse qua vediamo se lo riusciamo a trovare proviamoci così dovrebbe essere qua da qualche parte vediamo se qua sento gente che spara forse non è qua è fuori dicono vorremmo andare a vedere fuori dove è in posizione j3 lo troviamo raga lo troviamo qua ci sono delle costruzioni potrebbe essere qua ed infatti ragazzi eccolo qua il fortbite numero 88 si trova in posizione j3 ragazzi lo raccogliamo siamo esattamente qua io vi ringrazio per aver guardato questo video un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live alle 17 ciao 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 Grazie a tutti.